Do lettura del decreto per chi è arrivato questa mattina. In nome di Cesare Augusto, imperatore di Roma, è stato ordinato un censimento di tutte le genti. Fatevi avanti. Come ti chiami? Mi chiamo Giosuè, della tribù di Beniamino. Hai moglie? Sì. Hai dei figli? Sì, quattro. Qual è il mestiere che fai? Faccio il pastore. Dove vivi? Nel deserto, ai piedi del Monte Ebro. Hai visto, donna? Ci abbiamo messo esattamente il tempo che dicevo io. E come dici tu, Yazek? E sai cosa ti dico? Che se facessi io il censimento impiegherai metà del tempo che impiegano loro. E allora perché non ti fai assumere? E smettila di contare anche le parole che diciamo. Ma dove vai? Quel uomo mi ha detto che l'avrei trovato qui. Ti restituiamo l'asino che ci hai prestato. Il signore te ne renda merito. e assista te e il tuo bambino. Avanti un altro. Nome? Mi chiamo Giuseppe e vengo da Nazareth. Cosa possiedi? Pecore, mucche, asini, campi? Sono un falegname. Non posseggo nulla oltre la bottega.